Allora adesso vorrei farvi ancora ascoltare, e proprio così lo dice anche il Maresciallo, la testimonianza di Battista della Chiave, che poi vi ricordo ai fini processuali è stata in qualche maniera derubricata, sminuita, minimizzata. Però il racconto viene ritornato attendibile, lo dice anche il Maresciallo, e c'è la ricostruzione fatta egregiamente da Federica Cianelli e chi l'ha visto, recente, nella quale gli esperti documentano parola per parola ciò che dice con il linguaggio dei segni. Parla di un uomo sui 25 anni con i baffi e il pizzetto, racconta che Denise viene portata lì a bordo di uno scooter, e il racconto continua. Si è inventato tutto? Chi può dirlo? Da quello che capiamo, no. Alessandro D'Alessandro. Da una parte c'è un uomo autoleso dalla nascita, Battista della Chiave, che si esprime nel linguaggio dei segni, ma che usa anche una sua mimica personale. Dall'altra ci sono luoghi e persone che rivelano corrispondenze, che lasciano sbalorditi. Dal racconto di Battista, l'unico che avrebbe assistito al presunto rapimento di Denise, emergerebbe il percorso effettuato dai rapitori della bambina. A portare via Denise, secondo lui, è stato un ragazzo sui 25 anni, capelli ricci, baffi e pizzetto. Quello col pizzetto, con i baffi. L'ha preso il ricetto e l'ha portato via con lo scooter, con la motocicletta. Chi è l'uomo misterioso che avrebbe portato via Denise dal magazzino di via Rieti? Una cosa è certa, Battista dice di aver visto tutto, anche cosa sarebbe successo dopo la scena del magazzino. La piccola è stata portata lì con una motocicletta, superato il cavalcavia, praticamente la bambina viene nascosta dentro la barca con i remi, sotto una coperta e sono andati via. Battista racconta di un percorso preciso, di un posto preciso, parla di un arco, forse un ponte con un grande arco e poi di un faro. Dove c'è il faro? Hai presente il faro che lampeggia? Il faro. Io ero lì, ero lì come un palo. Dal racconto che fa, sembra come se l'uomo abbia passato del tempo con Denise, che piangeva, poi le avrebbero dato da mangiare e da bere e si sarebbe messa a dormire tranquilla, abbracciata a qualcuno, forse proprio a Battista, che ribadisce, ho visto tutto. Fanno impressione queste ricostruzioni e questo documento...